In questo momento ci troviamo nei luoghi dove lui è nato, dove lui ha vissuto, dove lui ha incominciato a soffrire. Stiamo passando proprio dalla sua terra, dalla sua terranatia. Hanno detto tante cose di lui, un guitto, un attore di strada, un comico popolare. Qual è la definizione giusta per definire l'arte di Franco Franchi? Un grande artista. Un grande artista e basta. Cosa ricorderà di lui? Tutto, tutte le grandi battaglie che abbiamo combattuto e vinto insieme.